buongiorno a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video ringrazio intanto dei mili iscritti sezionale grazie a tutti pian piano si aumenta e visto in samenta e cercherà di aumentare anche qualità dei video allora oggi cosa andrò a fare e cosa vi mostrerò vi mostrerò un mio tipo di allenamento in preparazione per la gara del 30 magi che è una tappa di Toscano riscata per bene parto subito ora un po' di trasferimento a un ritmo costelluto senza farci male perchè in quanti male ora è già stupido e poi allora si andranno a lavorare utvalinare lo stesso è stato molto quello che andrò da tutto e tecnica brah, camburito brah, camburito brah, camburito bra Positive brah, camburito roll, roll, roll Grazie a tutti 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 Grazie a tutti